Finita l'Italia 2018 siamo in una zona di grandi vini bianchi in Puglia, in Valle d'Itria, con Gianni Carparelli della Cantina I Pastini. Sì, una cantina che è nel cuore della Valle d'Itria, in Puglia, una valle particolarmente evocata alla produzione di vini bianchi. Questo appunto per delle condizioni climatiche molto favorevoli, quali appunto i terreni rocciosi, calcari, che permettono di avere grandi mineralità in questi vini, escursioni termiche molto elevate e anche ventilazione. Noi chiaramente cerchiamo di riscoprire e valorizzare questi viti neototoni, quali appunto sono verdeca, il bianco del sano e il minutolo. Vini bianchi anche molto longevi e qui a Venita li presentate una vostra novità. Sì, la novità è questa appunto alle nostre spalle, questo cupa e rampone che ricorda appunto le nostre etichette classiche, però con anno 2013, quindi un vintage 2013, perché per sfatare questa falsa credenza che i vini bianchi pugliesi non possono essere longevi. Invece determinati vitigni in determinati terreni, con un lavoro in cantina fatto chiaramente con la tecnologia, con il freddo, con l'assenza totale di ossigeno, ci permette di avere appunto questi bianchi molto longevi. Venite in Puglia, dai Pastini, Valle di Tre, non sbagliate. Valle di Tre, non sbagliate.